Sono sempre di più gli italiani che decidono di acquistare un prodotto soltanto dopo aver raccolto informazioni sulle caratteristiche disponibili sul mercato, sui siti o i punti vendita dove poterlo trovare e sulla gestione dell'assistenza post vendita. Il fenomeno si chiama multicanalità e riguarda oggi il 53% della popolazione over 14. Nel 2012 possiamo festeggiare l'inizio della multicanalità, dell'era della multicanalità di massa. Sono ormai il 53% gli italiani che hanno dotato uno stile propriamente multicanale e quindi per noi che fin dal 2007 abbiamo creduto nella multicanalità, anche quando ero un pochettino più giovane, ci sentiamo un po' come se avessimo vinto una scommessa. Secondo gli esperti il fenomeno è dovuto tanto all'imponente diffusione della tecnologia quanto al perdurare della crisi economica che implicano un inevitabile e sempre maggiore coinvolgimento dei consumatori in tutte le fasi del processo d'acquisto. Una sfida per le imprese chiamate a rispondere con strumenti di analisi e pianificazione strategica all'altezza. La grande rilevanza che la rete sta avendo nel Paese ha ripercussioni molto forti anche dal punto di vista economico. Per il sistema degli individui vi sono opportunità di risparmio e di ottenere quindi, di andare in controfase rispetto alla crisi, confrontando quelle che sono le offerte disponibili. Per le imprese una nuova chance di comunicazione che permette sia efficacia che efficienza, quindi essere più convincente rispetto al mercato e nel contempo risparmiando soldi. Ma le imprese ci devono credere. Grazie